Ho trovato una guida che ti porterà a destinazione. Dicono che quella gente abbia secoli di esperienza sul clima, sui fiumi e sui ghiacciai. L'isola è molto diversa dalla Danimarca. La gente, il clima, l'inverno è tutto molto diverso. Non credo che passerete vicino al vulcano, ma sarà più difficile guardare i fiumi. Le acque si gonfiano più del solito. Dicono che il vulcano emetta un odore disgustoso, una puzza. Come se la terra se la fosse fatta addosso. So bene che a volte il tuo compito potrà sembrarti monumentale. Nessuno dice che sia facile. Per questo sei stato scelto tu. Ma abbi fede e pensa agli apostoli, andati in giro a predicare la fede. Un miserabile, patetico greggio di uomini soli. E ce l'hanno fatta. Dimostrando che nessuna missione è impossibile. Quindi anche il tuo compito non è impossibile. Grazie. 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 Grazie.